Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Cosa mangio in un giorno? Quindi in questo video vi voglio far vedere un po' le mie ricettine però non di un solo giorno, sapete che io faccio sempre le cose più particolari perché solo di un giorno mi sembra un po' poco quindi in realtà è due o tre giorni che ho filmato un po' di ricettine un po' più particolari light perché ragazze mi sto impegnando un sacco con l'alimentazione sana a parte il 26 che è stato il mio compleanno quindi se non mi avete fatto gli auguri su Instagram fatemeli adesso qui scherzo, so che in tantissimi li seguite su Instagram tra l'altro se non lo fate, fatelo perché su Instagram sono attivissima fra storie, ogni giorno pubblico un sacco di storie, quindi di video in diretta, foto quindi lo sapete quindi a parte il mio compleanno che ho mangiato un po' così gli altri giorni sto mangiando proprio bene però sto cercando di fare ricettine un po' spiziosi, un po' più particolari quindi ho filmato qualcosina e ve lo faccio vedere vi dico, vi voglio far vedere innanzitutto il mio angolo in cui mi dedico un po' al benessere, l'attività fisica anche se comunque tutto in modo molto soft questo per dirvi che tutti voi potete farlo per rimettervi in forma dopo le feste, dopo Pasqua adesso che inizieremo ad uscire in modo molto soft, quindi questo video è anche per motivarvi quindi vi faccio vedere subito il mio angolo del benessere allora vi faccio vedere qua praticamente ho l'angolo della palestra dove praticamente ci alleniamo con l'ellittica ma comunque va bene anche un tappeto, un po' di corsa sul posto ecco non è necessario avere l'ellittica e soprattutto vi faccio tantissimi esercizi in circuito cardio quindi con il tappetino ma anche in piedi praticamente faccio questi allenamenti molto brevi che trovate anche su youtube un po' in giro cardio, total body, circuiti sulle addominali durano anche solo un quarto d'ora li ripeto magari due o tre volte e mi piacciono un sacchissimo qua sono io con i miei pantufoloni ancora invernali anche con la palla mi piace un sacco con la palla soprattutto allenare l'addome qua c'è l'angolo giochi invece con Daniel qua c'è il mio amore col papino e qua ci alleniamo con Daniel anche Daniel ha la sua palestrina ha la sua sediolina ha mille giochi questo serve per fare il bagnetto e questa è la piscina con le palline comunque io veramente ragazzi mi sto impegnando anche se senza stressarmi ma veramente lo sto facendo con piacere sto vedendo un sacco i risultati ok ragazzi avete visto il mio angolo del benessere mi sto veramente impegnando tantissimo mi aiuto un sacco con i prodotti di fitvia in particolare infatti proprio adesso mentre sto facendo il video mi sto sorseggiando sorseggiando perché poi mi sfonto il papaya mi fa venire una voglia proprio di prendermi cura di me e vi dico che sto vedendo un sacco di risultati sia dal punto di vista della cellulite che proprio del peso mi sto sgonfiando un sacco senza sacrifici mi sto aiutando un sacco con i prodotti fitvia infatti proprio adesso sto bevendo dalla nuova metallic battle troppo bella la adoro perché è super super resistente questa qua a differenza di quella di vetro la puoi sbattere poi mattina il tè o freddo o caldo quindi adoro anche in queste belle giornate lo potete fare anche freddo e questi mi aiutano un sacco in particolare io mi sono presa la spring box cioè praticamente una box in cui ci sono tutti i prodotti che vi permettono in sole due settimane di rimettervi in forma e dentro ci sono tè biscotti caps c'è tutto c'è anche questa battle la appunto esce all'interno della box e quindi c'è tutto quello che vi serve io ve la straconsiglio perché io la sto utilizzando tantissimo adesso sto bevendo il papaya che è uno dei mie preferiti in questo periodo e fa parte della linea slim è veramente buono anche di sapore lo bevo freddo lo adoro ragazze e anche il papaya c'è nella box la bella notizia è che voi la potete avere scontata ovviamente affrettatevi perché è un'edizione limitata vi dico approfittate perché veramente risparmiate tantissimo con il mio codice caritaspringbox avete il 20% di sconto sulla box che già è scontata sul sito ma voi avrete un ulteriore 20% di sconto in più anche due regali e nominate regali quali sono i mitici cioccolatini proteici light sia al cioccolato bianco che al latte quindi un'ottima occasione per provarli quelli sono ottimi anche come spezza fame perché io spesso ho proprio voglia di dolce di un cioccolatino dopo pranzo dopo cena quelli mi aiutano un sacco a non buttarmi sulle super schifezze e vi dico ragazzi che grazie a questi prodotti l'alimentazione con le ricettine sane un pochino di movimento quando riesco perché comunque Daniel permettendo non tutti i giorni assolutamente sto vedendo veramente degli ottimi risultati quindi veramente vi consiglio di approfittare di prendere questa box che vi aiuta un sacco anche a stare motivate e a prendervi cura di voi quindi vi metto il link della box informazione qui sotto e il codice che dovete inserire è Carlita Springbox adesso iniziamola per quanto riguarda la colazione io mangio sempre prendo sempre il tè di fitria con lo yogurt greco o comunque magro e ci associo sempre i biscottini di fitria quelli a cioccolato adoro mi piace spezzettarli dentro adoro per il pranzo e le cene ve li faccio vedere invece per le merende io mangio sempre sempre il tè di fitria sempre con i cioccolatini quindi 3-4 cioccolatini e in questo modo faccio merenda perché di solito non ho voglia di mangiare uno yogurt tanto mi piace più dissetarmi e bere e fare uno spezza fame se proprio ho fame mangio una mila una banana comunque un frutto ok quindi vi lascio alle ricettine vi raccomando lasciate un pollice in su se vi piacciono i video cosa mangio di ricettine vlog tanti consigli e mi raccomando vi aspetto anche su instagram dove condivido sempre 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 le mie ricettine e buona visione ciao eccola qua la box che vi straconsiglio in cui c'è anche appunto la metallic bottle la nuova bottiglia metallica ad oro che poi tra l'altro è leggerissima ed è bella perché è infrangibile cioè praticamente a differenza di quelle di vetro è molto molto più resistente quindi la potete portare dietro la sbattete la fate insomma vabbè anche meno però però è veramente molto resistente quindi adatta a me poi piace un sacco perché è super glamour l'adoro veramente poi mantiene il tè o caldo o freddo quindi in base a come lo preferite me lo mantiene quindi è anche termica e poi ci sono guardate tutti gli snack che io mangio questi sono buonissimi questi biscotti al cioccolato per le colazioni le merende questo ha anche un super biscottone proteico adoro il tè al melograno che è buonissimo anche freddo quello alla papaya il frozen è anche molto molto buono è super sgonfiante c'è Dario che dice fai ciao ciao mamma e poi c'è questa qua che è bellissima è la praticamente la guida con tutte le ricettine gli esercizi l'allenamento ma vi giuro che da qua prendo un sacco spunto ci sono un sacco di belle ricette sia dolci che salate ad esempio panino integrale con l'hummus fiocchi di avena al cioccolato ma veramente un sacco avevo anche visto una frittata speciale adesso mi ricordo a che pagina comunque vi giuro che veramente veramente buono mac and cheese ayana cardi cioè vi giuro è pazzesco quindi anche questo è ottimo e vi esce dentro questo per prepararvi lo shake che io al momento ho finito quello al cioccolato infatti sto aspettando che mi arrivi è troppo buono quello anche come sostitutivo dei pasti ad esempio se avete una cena un po' più calorica a pranzo andate di fretta per non saltare i pasti e accelerare il metabolismo vi fate lo shake al cioccolato in questo shaker ed è buono buono a me piace un sacco me lo faccio freddo metto anche qualche cubetto di ghiaccio è veramente buono quindi questa ve la straconsiglio ci sono ovviamente le caps queste qua le caps vi aiutano un sacco ad accelerare il metabolismo e a bruciare quindi sono top questo è un programma formulato proprio per perdere peso e per rimettervi in forma quindi è proprio il periodo giusto per acquistarlo poi tra l'altro col mio codice risparmiate davvero tantissimo quindi vi dico approfittate anche perché vanno subito sold out adesso vi faccio vedere al mattino io cosa faccio una coppettina metto i biscotti questi qua al cioccolato ragazze questa cosa la dovete provare è una scoperta troppo bellissima ci aggiungo un po' di latte lo potete fare anche al momento ovviamente se lo preparate il giorno prima è meglio e fate strati di biscotti e ci mettete lo yogurt io uso questo qua che piace di più perché è meno aspro il 2 è solo 2% di grassi quindi ok vado a coprire e voilà ragazzi guardate che meraviglia ho messo qualche goccina di cioccolato fondente qualche altro biscottino spezzettato questi qua i chocolate light cookie che vi escono nella box sono buonissimi ragazze e ovviamente accompagnato dal tè io sto bevendo questo qua ogni mattina il papaya è buonissimo veramente veramente buono dentro c'ha proprio pezzetti di frutta e fa parte della linea slim eccolo qua quindi così inizio la mia colazione buongiorno ragazzi allora sto preparando le piadine che ne avevo troppa voglia però le voglio fare particolari allora qua ho sgrassato tutto il prosciutto ho preparato tipo erano gli hamburger di polo e tacchino erano tutti frantumati voglio fare tipo una con la carne macinata tipo burrito invece ho preparato le verdurine quindi ho fatto l'insalata però tutta sminuzzata vedete piccolina piccolina condita con olio sale e limone e i pomodorini come se dovesse fare delle bruschette che vengono molto sugosi vedete cacciano un sacco di sughetto quindi con l'olio il basilico sale e origano e un po' d'aglio è buonissimo come contorno appunto per queste cose di pane per fare un po' di sughetto quando scalla la piadina sono molto carine queste piadine sono piccoline e carine ci andate a mettere la sottiletta light e poi il prosciutto crudo o cotto quello che volete le jason fée allora le piadine una e mezza qua con la carne macinata qui col crudo e le sottilette insalate e pomodorini come contorno e poi c'era un altro po' di bresaola perché a mia amore io ho messo la bresaola e l'abbiamo fatta semplicemente con limone niente di che è mangiata così a me piace tantissimo c'è Daniele che fa i suoi versetti e poi accompagniamo tutto dalla tourtel questa se non la conoscete è una birra analcolica con low cal quindi poche calorie vabbè ma la cosa importante è che è analcolica perché noi non bevamo alcol tranne in rarissime occasioni ed è molto buona me l'ha fatta scoprire mio padre quindi quando facciamo queste scene un po' sfiziose così tipo vicino anche alla pizza la beviamo buon appetito e vedi un appetito amore buon appetito sabato ci manciamo la pizza Daniele ok preparato il pollo ho messo i cosciotti di pollo con patate funghi e poi ho messo le fave invece dei piselli perché avevo le fave di solito ci metto i piselli però avevo queste fave da consumare secondo me è una buona alternativa pomodorini cipolla e basilico la cosa importante è mettere un po' di spezie io ho messo del rosmarino e un po' di pepe ovviamente sale e adesso metto un filo d'olio vi faccio vedere come faccio io allora metto un filo d'olio e poi ci metto un po' di pangrattato soprattutto sul pollo così viene una bella ovviamente il pollo lo faccio sempre senza pelle lo tolgo la pelle perché è molto grassa e sinceramente mi fa anche un po' schifo quindi metto soprattutto sulle cosci di pollo viene una bella crosticina croccante e poi lo metto un po' anche dappertutto però non tantissimo se no si secca tra l'altro questo pangrattato l'ho fatto io vi svelo questo trucchetto quando avete tipo le fette biscottate o del pane stantio però tipo freselle duro croccante io le frullo e viene pangrattato proprio così vedete integrale ovviamente io adesso ho fatto le fette biscottate integrali perché erano un po' serieticce come si vuol dire non si butta nulla ora in furra vi faccio vedere come faccio il riso cavolo cavolfiore praticamente l'ho lavato benissimo solo le cimette vedete poi la cosa importante è asciugarlo bene proprio uno per uno deve essere asciugato e poi si frulla è semplicissimo ed è una ricetta molto molto utile soprattutto se volete fare una dieta stare low carb perché comunque rispetto al riso potete mangiare neanche un piatto e non ingrassate noi mangiamo anche il riso quindi non ce ne frega proprio però è proprio buono da farlo quindi mi piace proprio come alternativa insomma non perché non mangiamo il riso insomma mangiamo tutto ragazze vi consiglio di tagliuzzare prima con le mani le cimette completamente asciutte e le frullate e questo è il risultato vedete sembrano proprio dei chicchetti di riso adesso a questo punto si va a cuocere in padella per pochi minuti con un filo d'olio e potete aromatizzare o condire come meglio credete a questo punto in padella con un filo d'olio aggiunto anche un po' di zafferano lo fate saltare sale ovviamente potete mettere quello che volete come fate il couscous tipo con le verdure qualsiasi cosa e pochi minuti ed è fatto qui ho sfornato anche il pollo guardate quanto è diventato bello adoro troppo invitante dite la verità mmm si ecco qui il nostro pollo con le verdure adoro ed ecco qua il nostro riso cavolfiore ecco qui ho fatto un bruschettone troppo invitante con zucchine praticamente le ho cotte in padella con pomodorini pomodori secchi un po' di origano un po' d'olio adoro e poi quelle avanzate le ho messe qua come contorno buonissime queste zucchine così provatele e poi qua ho fatto il tacchino a pezzetti tipo uno spezzatino con olive e noci grigli di noci viene troppo buono un po' di rosmarino provate viene un sapore molto molto buono e altri contorni tante verdure anche oggi ho fatto il broccoli con olio sale limone un po' di aglio e qua ho fatto un po' di fagioli tipo alla messicana però solo fagioli senza carne perché la carne già è lì con semplicemente cotti con un po' di polpa di pomodoro un po' di cipolla e spezie vari ovviamente e peperoncino ecco qua quindi tanti contorni buonissimo buon appetito buon appetito ok ragazzi sto preparando la pizza per stasera perché oggi è sabato e noi mangiamo la pizza da che è iniziata la quarantena abbiamo questa tradizione ho mescolato un po' di farina bianca con la farina integrale faccio sempre così metà e metà e il lievito io volevo dire questa cosa io lo congelo perché avevo comprato un cubettone grande quindi l'ho congelato in pezzetti tipo da 30 grammi 25-30 grammi lo metto direttamente nell'acqua cioè lo tolgo congelato e lo verso direttamente in acqua bollente più o meno le proporzioni che faccio io sono più o meno un chilo di farina un cubetto di lievito e circa 700 grammi di acqua e poi faccio crescere la preparo la mattina e la faccio crescere fino alla sera anzi di solito dopo 4-5 ore la impasto di nuovo e la divido in panetti questo me l'ha detto mio padre tipo panetti per fare le singole pizze in questo modo la faccio crescere due volte diciamo e il sale non si mette mai a contatto con il lievito quindi lungo i bordi il segreto è questo qua per far fare lievitarla tantissimo soprattutto se avete una casa fredda e grande io accendo il forno per tipo 10 minuti ma a temperatura bassa bastano 100 gradi poi metto l'impasto dentro chiudo e ovviamente il forno deve stare poi spinto quindi lo riscaldate solo e così vedete che cresce tantissimo in attesa della pizza di stasera ho fatto una cosa leggera appunto giusto per uno spuntino insalata pomodori fissa di tacchino che praticamente io la passo un po' sulla piazza cioè ho fatto queste qua che sono delle crocchette ve le faccio vedere ho conservato la scatola di questa marca che ho trovato al suo mercato sono molto molto buone mini burger vegetali agli spinaci e le ho fatte in padella e sulla stessa padella antiaderente ho messo anche un po' la fissa di tacchino mi piace di più un po' cotta un po' di ricotta del cestino e qualche gallettina di mais semplice leggero in attesa della cena di stasera ci sta una 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 delle mie pizze perché ho fatto anche delle pizzette ripiene ho fatto friarelli e mozzarella qua ho fatto la margherita patate prosciutto cotto e mozzarella e la marinara ho fatto queste fantastiche pizzettine ripiene alcune sono fatte con friarelli crudo e mozzarella e altre con prosciutto cotto crudo mozzarella la ricotta e un pochino di salsa di pomodoro ovviamente sale e pepe sono tipo dei mini calzoncini e sono troppo troppo buoni poi li faccio cuocere molto mi piacciono belli croccantosi adoro mamma mia che meraviglia vi piace?